ragazze buongiorno buongiorno allora raga vi volevo far vedere quando mio marito fa la cucina e perché non voglio che lui faccia la cucina allora ecco qua stamattina ha lavato in effetti c'erano stamattina molte cose padelle perché lui ieri ha fatto il pesce io ho fatto i pomodorini piatti insomma c'erano tante cosina onestamente quindi lui ha fatto la cucina allora lavello sporco naturalmente questa è la mia tazza del latte che ho fatto colazione dopo che lui aveva fatto la cucina vi faccio vedere il piano cottura ecco qua e poi vi faccio vedere qui l'isola lui ieri ha utilizzato questo tagliere per tagliare pomodorini per tagliare aglio e cose varie quindi questa è l'isola quando io dico che non voglio che mio marito faccia la cucina per come dire qualcuna che possa pensare ma come il marito le lava i piatti e le si lamenta allora io ora qui naturalmente la cucina la devo finire perché non è che la posso lasciare così quindi io preferisco a questo punto farla tutta e non lo so mi dà più soddisfazioni comunque lui non lo capisce perché io gli dico sempre non fare la cucina invece lui la fa vabbè dai lasciamo stare questa fesseria vi volevo fare vedere come si dice come diciamo noi altri cose di capriccio perché questi li ho comprati venerdì questa è la raccolta del vetro questi li ho comprati venerdì e non ve li ho fatti vedere allora guardate così vi do pure qualche spunto per i gusti se voi dovete fare pure qualche confettata allora guardate qui al gusto di cocco guardate che meraviglia poi guardate questo al gusto di pane cioccolato ma l'avevate mai sentito guardate che c'è qui al gusto di pane cioccolato poi abbiamo questo che è proprio il top al gusto di cannolo siciliano guardate poi abbiamo questo che avevo già comprato e che mia figlia mi ha richiesto di comprare un'altra volta questo è al gusto di tiramisù al limone e poi questi ragazzi un altro must favoloso per la sicilia confetti al gusto di pistacchio e poi non potevano mancare i classici confetti quelli con alla mandorla che sono sempre un classico anzi vi devo dire che questi sono i più cari di tutti vedete 10 e 98 mentre tutti gli altri sono a 9 e 93 ok ragazze quindi io spero che sei pacchi di confetti possono bastare poi ho comprato una confezione di tea light queste qua sono 50 anche queste spero che bastino perché voglio fare un tripudio di candele tra l'altro poi ne ho sei di quella invece belle grandi e quindi è questo è quello che vi volevo far vedere niente raga ieri quindi sono stata al mare ve l'ho detto mi sono abbronzata come appunto era il mio obiettivo mi sono abbronzata e niente poi invece siamo andati appunto a sferracavalla vi ho mangiato il panino con le panelle abbiamo mangiato una schiacciata e poi invece di pomeriggio casa relax una bella doccia un po di riposo e poi ieri sera visto che a pranzo avevo mangiato appunto panini ci siamo fatti io mi sono fatta le fettuccine con i pomodorini che ragazze mi fanno impazzire le fettuccine e i pomodorini quindi questa è stata la mia cena e niente ragazzi ora mio marito è uscito da comprare delle cose e tra l'altro io mi devo sbrigare perché alle 11 ho appuntamento con alessi e con salvo e dobbiamo andare in location a definire qualche cosina e nel frattempo ne voglio approfittare per chiedere al titolare se posso portare già le cose perché avevamo pattuito di portare le cose due giorni prima invece io gliele vorrei portare onestamente tra oggi e domani vediamo che cosa mi dice ragazzi sono nella location ci sono un sacco di spazi allora in fondo questo spazio che vedete in fondo questo spazio servirà per gli antipasti e poi per il buffet di dolci poi sulla sinistra invece c'è un altro spazio con la piscina dove ci sarà un aperitivo di benvenuto per gli ospiti che aspettano gli sposi e poi appunto quando gli sposi arrivano si appunto si continuerà con i brindisi e con qualche antipastino quindi a sinistra spazio con piscina e quindi antipasto di benvenuto qua ecco vi faccio vedere in lontananza la piscina quindi la l'aperitivo di benvenuto qua ci saranno tutti i tavoli con con il buffet di antipasti poi mangeremo la dove vi ho mostrato poco fa che un chiostro ci saranno i tavoli imperiali poi ritorneremo qui dove ci sarà il buffet di dolci e dove allestirò la confettata speriamo che ci sia una giornata come oggi oggi la giornata è stupenda bellissima allora ritorno negli uffici perché mia figlia mi chiamava continuo con il nuvoloso non è che poi c'è cioè continuo con il parzialmente nuvoloso col parzialmente nuvoloso allora dice diventa o pioggia che dice può cominciare il giovedì poi la sera anche se c'è la nuvoletta